Ma non ci credo, non ci credo, non ci credo, sono due che si scontrano Erano due che, ho interrotto la registrazione sul più bello cazzo, due che si scontrano Vedi che è il karma di professore Ma perché, ma perché siamo finiti, siamo finiti in una lobby con cheater quindi Che schifo Io gioco da computer Io gioco da computer Dai dai, fanculo Aspetta, voglio vedere cosa succede quando rimangono loro due Ah, è vero, è vero, è vero Che rimangono i due gitter È vero, vediamo, vediamo Anche quello là Ma sicuro rimangono Dove ha ricercato, vecchio E non lo vede E non lo vede, infatti Si è preso Si è preso Un cheater contro un cheater Che coglioni Guarda che coglioni Eh, guarda che due coglioni Che ritardati Che ritardati Mamma mia che ritardati Ah ma non possono prendere neanche il danno Ragazzi non possono prendere il danno Se vi faccio vedere Se vi faccio vedere la visuale Vedete Vedete, vedete Vedete, non si vede nessuno Sono due cheater per cazzo E' un po' di pochi Che sei un po' di pochi Che sei un po' di pochi E' un po' di pochi anche io dobbiamo arrivare alla zona sicurale cheater contro cheater mi schifo il bellissimo cheater contro cheater e c'è proprio un bel figlio che è schifo non era neri è Rainer è un tedesco mi sa due cheater mi ha incontrato due cheater ma adesso devono morire per forza tutti e due non lo so come si fa sono proprio curioso non vince nessuno non vince forse vincono loro se sono in due perché loro sono in due forse vincono loro non lo so non ne ho idea perché sennò ha paura che per vincere per vincere devono disattivarli per vincere per forza e quindi al momento che uno dei due ha vinto lui si è arreso quell'altro che merda che schifo che schifo che schifo